Si era scritto Gianni Berrino, la parola a lui si prepara Carlo Ciccioli a seguire Pasquale Viespoli. Sarò brevissimo, grazie a tutti e grazie di essere qua ce lo diciamo. Ce lo diciamo perché quando ho deciso di entrare in Fratelli d'Italia nel dicembre del 2012 non pensavo che ci saremmo trovati così tanti dopo così pochi anni. Abbiamo traguardato il congresso di Fiuggi e nel frattempo sono successi un po' di miracoli come nella mia Liguria, l'ha detto prima il Presidente Totti, l'abbiamo vinto e siamo cresciuti in tutte le città. Io faccio l'assessore grazie a Fratelli d'Italia in Liguria, lo faccio in materie difficili come i trasporti e il lavoro ma non perché sono bravo io, perché dietro c'è tutto quel popolo dei Fratelli d'Italia che attraverso chi fa politica in maniera materiale dimostra che la destra e i Fratelli d'Italia sono in grado di esprimere amministratori capaci. Su questo voglio fare il mio brevissimo intervento. C'è una cosa che mi dà fastidio, quando gli altri ci dicono che noi non siamo affidabili perché noi non siamo moderati. Io vorrei sapere se rispetto a quelli che ci dicono che non siamo moderati sto tacendo quindi il fatto, anzi accusandoci quindi di essere estremisti perché chi non è moderato per chi lo dice in quel modo è estremista vorrei dire se non siamo moderati noi che amiamo le leggi naturali che apprezziamo i figli quando nascono da un uomo e una donna o se non sono estremisti loro invece con quello che ci stanno sottoponendo negli ultimi mesi e negli ultimi anni. Se non siamo moderati noi o se non sono moderati loro che vogliono islamizzare il nostro Paese. Se non siamo moderati noi o se non sono moderati loro a impedirci di fare il presepe o l'albero di Natale se non siamo moderati noi o non sono moderati loro a sostenere che l'Italia deve essere un Paese multiculturale dalla nostra cultura millenaria, cattolica o non cattolica che sia per chi crede o chi non crede non deve essere più la cultura dominante. Noi pensiamo, io penso che Fratelli d'Italia sia un partito di patrioti che i patrioti rappresentino la moderazione in questo Paese la moderazione che vuol dire essere italiani se poi invece ci dicono che non siamo moderati perché a volte ci scaldiamo sui nostri temi allora non lo siamo ma non siamo moderati non per essere offesi noi non siamo moderati quando ci fanno arrabbiare diciamo così perché dicono che non dobbiamo fare gli interessi del nostro Paese moderati non lo sono chi dice che noi dobbiamo dipendere dall'Europa senza poter difendere i nostri interessi loro non sono moderati e noi lo siamo se questa è l'accezione di moderati in cui noi ci riconosciamo e quindi ringrazio Giorgia per quello che ha detto stamattina nel suo intervento noi, tutti noi, tutti noi assieme con chi è arrivato dopo e da chi l'ha fondato questo partito per chi arriverà domani e arriverà non solo per saltare sul carro del vincitore naturalmente noi siamo veramente quelli che possiamo dare un futuro diverso all'Italia lo possiamo fare tutti assieme lo possiamo fare apprezzando il discorso che Giorgia ha fatto questa mattina apprezzando il discorso che tutte le nostre donne e i nostri uomini in tutte le regioni, in tutti i comuni d'Italia dicono contro l'imbambarimento della politica in Italia contro il farci divenire ogni giorno meno italiani e meno patrioti noi siamo gli italiani, noi siamo i patrioti viva Trieste, viva l'Italia, viva Fratelli d'Italia e viva Giorgia Meloni Grazie 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 Grazie